La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo sostiene con convinzione la progettualità di Agrion e questa convinzione non arriva da oggi ma è partita già 5 anni fa con scelte specifiche che la Fondazione ha fatto nei confronti dell'agroalimentare cuneese, sviluppare le produzioni agricole in un'ottica europea di grande sostenibilità e di grande capacità di avere a disposizione prodotti che siano graditi e che siano apprezzati dai consumatori credo sia il futuro perché il sistema agricolo agroalimentare cuneese possa distinguersi dal resto del mercato. Grazie a tutti!